E' un caso che l'albergo è fortuna? Si commenta dopo Vabbè, il Milan ha perso Questo lo sapevo, purtroppo L'avevo detto, perdiamo la partita che non conta e vinciamo quella che conta Ma ci sono degli exit ball disastrosi Commentiamo i dati veri A occhio abbiamo fatto un'impresa storica A occhio Si annuncia una forbice terribile A occhio abbiamo fatto un'impresa storica Le sue sensazioni quali sono? Felice Ma come fa a dire che è felice senza sapere ancora i risultati? Così, sento l'aria Le piace l'aria? Mi fate entrare, posso? Grazie Perché mi hai scelto lo faccio? Grazie 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 Grazie